esploratore a rapporto salve comandante trasmettete gli ordini mi ricevo quartier generale e abbiamo a schermo che cosa chi ha liberato tutte queste scimmie da laboratorio e uguale mc mi serve un tocquino fusione me ne devo ricordare eccellente operazione iniziata affermativo signore a palla ma che bella gru con piacere sicuro la verità fa male penso che ci sia una fuga di gas la scienza trionfa di nuovo ai miei tempi si usava così ho qualche problema qui la nave è fuori pericolo